Buongiorno a tutti, sono Irene Bellifemini, assessore alla cultura di Malnate e sono qui per presentarvi il nostro progetto di frontiere letterarie. Per il decimo anno Malnate ha deciso di contribuire con un incontro il 15 di ottobre con la scrittrice Giuditta Campello. Lei farà un laboratorio attivo con i bambini, si dividerà in due parti, la prima parte alle ore 16 in sala consigliare con i bambini dai 4 ai 7 anni con un racconto di storie di paura per i bambini e la costruzione di uno scaccia paura e poi alle ore 17 e 30 con i bambini più grandi dai 7 ai 10 anni con racconti di streghe e di fantasia e dopo ci sarà il laboratorio attivo con i bambini sulla costruzione e sull'ideazione del libro, visto che lei è una carinissima scrittrice per bambini.